Una vita anticipazioni. Ignacio decide di tornare a casa e parla per la prima volta della gravidanza. Nelle prossime puntate, Alodia sarà sempre più devastata e commetterà un errore che potrebbe costarle la vita. La giovane assumerà troppe pastiglie e perderà i sensi, per sua fortuna. Ignacio tornerà a casa in quel preciso momento e le salverà la vita. Il nipote di Bellita trova la giovane donna che è incinta svenuta a casa dei Domingues. La ragazza aveva provato a porre fine alla sua vita e quella di suo figlio. Bellita e José si preoccupano per quello che è successo alla loro domestica e cercheranno di fare ragionare il nipote, provando a convincerlo ad affrontare la sua paternità. Il sensi di colpa inizia a farsi sentire. Dopo il tentativo di suicidio, Alodia ringrazia il ragazzo per averla salvata. Il due parlano per la prima volta del loro bambino. Ti chiedo perdono per come ti ho trattata. Sei una donna meravigliosa e non meriti questa insensibilità da parte mia, soprattutto dopo quello che ti ho fatto. Ma sono sicuro che questo risulterà un falso allarme, non sei incinta ribadisce. Nonostante la disperazione della ragazza, Ignacio continuerà a mantenere un atteggiamento egoista e immaturo. Dopo aver sentito queste parole, la domestica sarà devastata, poco dopo. Confesserà a Bellita di voler dare in adozione il bambino, ma lei glielo proibirà dicendole che lo cresceranno come se fosse un loro nipote. Le anticipazioni terminano qui, per non perdere altri video iscriviti al canale.